Lezione 1. Richiedere la fattura. Mi scusi. Ci può dare l'assegno, per favore? Certo. Te lo porterò subito. Grazie, lo apprezzo. Ecco l'assegno per te. C'è altro che ti serve? No, questo è tutto. Sono pronto a pagare adesso. Bene. Fammi elaborare il pagamento. Preferisci contanti o carta? Pagherò con una carta, per favore. Bene. Inserisci la tua carta nel lettore di carte. Ecco qua. Grazie. Ci vorrà solo un momento per elaborarlo. Prenditi il tuo tempo. Senza fretta. Il pagamento è andato a buon fine. Ecco il rimborso della tua carta. Grazie. Posso avere una copia della ricevuta, per favore? Certamente. Ecco la ricevuta come riferimento. Ottimo. Grazie ancora per l'assistenza. Lezione 2. Esplorando le meraviglie culturali dell'Asia. Ciao, Anna. Sei stata in Asia? Il mese scorso ho fatto un viaggio incredibile lì. Ciao, John. No, non l'ho fatto. Sembra incredibile. Dove sei andato? Ho visitato diversi paesi, tra cui Giappone, Thailandia e Vietnam. Ognuno aveva il suo fascino unico. Wow! Sono destinazioni affascinanti. Qual è stata la tua parte preferita del viaggio? È difficile sceglierne solo uno, ma esplorare gli antichi templi in Giappone è stato davvero impressionante. Posso immaginarlo. La ricca storia e l'architettura devono essere stata affascinanti. Assolutamente. E in Thailandia, i vivaci mercati di strada e il delizioso cibo di strada erano indimenticabili. Ho sentito parlare tanto della cucina thailandese. Deve essere stata un'avventura culinaria. Sicuramente lo era. Ho provato vari piatti e sapori autentici che non avevo mai provato prima. Questo è fantastico. E che mi dici del Vietnam? Cosa ti ha colpito lì? La bellezza naturale della Baia di Along è stata mozzafiato. Navigare tra le isole calcaree è stata un'esperienza surreale. Ho visto delle foto della Baia di Along e sembra un paradiso terrestre. Lo è davvero. L'Asia ha così tanto da offrire in termini di cultura, storia, natura e cucina. Sono ispirata a pianificare un viaggio in Asia adesso. Sembra un'esperienza arricchente e illuminante. Non rimarrete delusi. Ogni paese ha i suoi tesori unici che aspettano di essere scoperti. Non vedo l'ora di esplorare le meraviglie culturali dell'Asia e creare i miei ricordi indimenticabili. Sono entusiasta per te. Viaggiare amplia i nostri orizzonti e ci aiuta ad apprezzare la diversità del nostro mondo. Lezione 3. Navigazione nella stazione degli autobus Ciao Anna. Vado alla stazione degli autobus. È facile da individuare? Ciao John. Sì, è un grande edificio blu con un cartello. Non puoi perdertelo. Capito. Sono contenta che sia particolare. La stazione degli autobus è solitamente affollata? Può essere affollato, soprattutto nelle ore di punta. Ma il personale è utile, quindi starai bene. Questo è buono a sapersi. Spero di poter trovare facilmente l'autobus giusto. Non preoccupatevi. Ci sono chiari cartelli che indicano le linee e i binari degli autobus. Questo è rassicurante. Quanto sono frequenti le partenze degli autobus dalla stazione? Gli autobus di solito partono a orari prestabiliti, quindi c'è una partenza ogni 15-30 minuti, a seconda del percorso. Questo è conveniente. Mi dà una certa flessibilità nella pianificazione del mio viaggio. Sicuramente. Assicurati solo di controllare l'orario per evitare ritardi o perdita degli autobus. Lo terrò a mente. C'è una biglietteria alla stazione degli autobus? Sì. C'è una biglietteria dove è possibile acquistare il biglietto prima dell'imbarco. Perfetto. Comprerò il mio biglietto lì. Ci sono altre strutture alla stazione degli autobus? Sì. Ci sono servizi igienici, un'area di attesa e anche alcuni negozi e caffè. Questo è fantastico. Posso fare uno spuntino mentre aspetto il mio autobus? Esattamente. È sempre bene avere qualcosa da bere a portata di mano durante il viaggio. Grazie per tutte le informazioni. Sei stato davvero utile. Lezione 4. Una giornata di lavoro produttiva. Ciao Anna. Ho avuto una giornata intensa al lavoro. Ho risposto al telefono, ho scritto lettere, archiviato documenti e ho fatto la contabilità. Ciao John. Sembra una giornata produttiva. È importante rimanere organizzati e gestire le attività in modo efficiente. Assolutamente. Aiuta a mantenere un flusso di lavoro regolare e garantisce che tutto sia in ordine. Sono d'accordo. Hai avuto compiti impegnativi o problemi imprevisti oggi? Sì, c'era un problema con il sistema informatico, ma sono riuscito a risolverlo e risolvere il problema. Ben fatto. Le capacità di risoluzione dei problemi sono preziose sul posto di lavoro. Grazie. È stato un po' impegnativo, ma sono felice di averlo risolto. A volte, le sfide possono portare a opportunità di crescita personale e di apprendimento. Questo è vero. Credo nel miglioramento continuo e nell'acquisizione di nuove competenze. È un'ottima mentalità da avere. Hai collaborato con qualche collega nelle tue attività? Sì, ho lavorato con un team su un progetto. Abbiamo raccolto idee e condiviso le responsabilità. La collaborazione favorisce la creatività e unisce prospettive diverse. Esattamente. È incredibile come il lavoro di squadra possa migliorare la produttività e l'innovazione. Hai fatto delle pause durante il giorno per ricaricarti e rilassarti? Sì, ho fatto delle brevi pause per fare stretching, prendere un caffè e schiarirmi le idee. Fare delle pause è essenziale per mantenere la concentrazione ed evitare il burnout. Assolutamente. Mi aiuta a rimanere fresco e motivato per tutto il giorno. Beh, sembra che tu abbia avuto una giornata di lavoro soddisfacente e produttiva. Grazie, mi sforzo di sfruttare al meglio ogni giorno e contribuire al successo del team. Continuate così. La tua dedizione e la tua etica del lavoro sono ammirevoli. Apprezzo le tue gentili parole. Continuiamo a lottare per l'eccellenza nei nostri sforzi. Lezione 5. L'importanza della copertura assicurativa. Ciao Anna, ultimamente ho pensato all'assicurazione. È importante nel caso qualcosa vada storto. Ciao John, hai assolutamente ragione. L'assicurazione offre protezione finanziaria e tranquillità. Che genere di cose copre? Non conosco molto i dettagli. L'assicurazione può coprire vari aspetti come la salute, la casa, l'auto e persino gli effetti personali. Questo è interessante. Quindi, se ho un'assicurazione auto, coprirebbe i danni in caso di incidente? Sì. L'assicurazione auto in genere copre i costi di riparazione o sostituzione dopo un incidente o un furto. Questo è rassicurante. E che mi dici dell'assicurazione sanitaria? Come funziona? L'assicurazione sanitaria aiuta a coprire le spese mediche, come visite mediche, degenze ospedaliere e farmaci. Ah, capisco. È importante avere una copertura per spese mediche impreviste. Assolutamente. Riduce l'onere finanziario e garantisce l'accesso ai servizi sanitari necessari. Esistono altri tipi di assicurazione che le persone hanno comunemente? Sì. Molte persone hanno anche un'assicurazione sulla casa per proteggere la loro proprietà da danni o furti. Questo ha senso. È bello sapere che l'assicurazione può fornire quel livello di sicurezza. Inoltre, esiste anche un'assicurazione sulla vita, che offre sostegno finanziario ai propri cari in caso di decesso dell'assicurato. Non avevo pensato all'assicurazione sulla vita. È un modo per prendersi cura dei membri della famiglia. In effetti, fornisce una rete di sicurezza per il futuro e può aiutare con le spese e la stabilità finanziaria. Apprezzo che tu abbia spiegato tutto questo. È utile comprendere i diversi tipi di assicurazione disponibili. Siete i benvenuti. L'assicurazione è un aspetto importante della pianificazione finanziaria e della gestione del rischio. Assolutamente. Mi assicurerò di esplorare le opzioni assicurative e scegliere la copertura più adatta alle mie esigenze. È una decisione saggia. È sempre meglio essere preparati agli imprevisti. Grazie per la tua guida. Adotterò le misure necessarie per garantire una copertura assicurativa adeguata. Lezione 6. Confronto dei prezzi. Oltre i negozi fisici. Salve Anna. Sto cercando di trovare i prezzi migliori per un nuovo laptop. In quale altro luogo posso confrontare i prezzi oltre ai negozi fisici? Ciao John. Ha senso esplorare altre opzioni. Le piattaforme online e i siti web di confronto dei prezzi sono ottimi punti di partenza. Questa è una buona idea. Quali piattaforme online consigliate per confrontare i prezzi? Quelli popolari includono Amazon, eBay e rivenditori online come Best Buy e Walmart. Li controllerò. Ci sono siti web specifici per la comparazione dei prezzi che puoi suggerire? Certo. Siti web come Price Grabber, Google Shopping e Shopzilla possono aiutarti a confrontare i prezzi tra più negozi online. Questo è conveniente. Posso facilmente confrontare i prezzi senza visitare ogni negozio singolarmente. Esattamente. Ti fa risparmiare tempo e ti consente di trovare le migliori offerte senza troppi problemi. Esistono altri modi per confrontare i prezzi in modo efficace? Non dimenticare le app mobili. Molti rivenditori dispongono di app proprie che offrono comparazioni dei prezzi e sconti esclusivi. Non me ne ero accorto. Le app mobili sarebbero utili per confrontare i prezzi ovunque ti trovi. In effetti, forniscono comodità e informazioni in tempo reale a portata di mano. Grazie per i suggerimenti. Esplorerò queste opzioni per trovare l'offerta migliore sul laptop che desidero. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. Ricorda di considerare anche fattori come i costi di spedizione e le recensioni dei clienti. Questo è un buon punto. Terrò conto di tutti questi fattori prima di effettuare un acquisto. Decisione saggia. È importante fare una scelta informata e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo. Assolutamente. Apprezzo la tua guida. È sempre bene avere delle opzioni quando si confrontano i prezzi. Sono lieto di assisterti. Ti auguro di riuscire a trovare il laptop perfetto a un ottimo prezzo. Grazie. Il tuo consiglio è stato prezioso. Inizierò subito la mia ricerca. Lezione 7. L'invenzione del fonografo. Ciao Anna. Sapevi che quando Edison inventò questa macchina nel 1877, era la prima volta che qualcuno poteva registrare e riprodurre suoni? Ciao John. Sì. È stata un'invenzione rivoluzionaria. Il fonografo ha rivoluzionato il modo in cui sperimentiamo e conserviamo l'audio. È incredibile. Come funzionava il fonografo? Il fonografo aveva un cilindro rotante con scanalature. Uno stilo tracciava i solchi, convertendo le vibrazioni sonore in impronte fisiche. Quindi, le impronte sul cilindro riprodurrebbero il suono quando vengono riprodotte? Esattamente. Lo stilo seguiva le impronte, vibrava e riproduceva il suono registrato. Questo è affascinante. Non riesco a immaginare come la gente debba aver reagito a questa innovazione all'epoca. È stata davvero una meraviglia. Le persone sono rimaste stupite dalla capacità di catturare e riprodurre suoni, tra cui musica e parole pronunciate. Capisco perché. Deve aver aperto un intero nuovo mondo di possibilità. Assolutamente. Il fonografo ha gettato le basi per lo sviluppo delle tecnologie di registrazione e riproduzione audio che abbiamo oggi. È incredibile quanto lontano siamo arrivati da allora. Ora disponiamo di dispositivi avanzati per lo streaming di musica e audio. La tecnologia è sicuramente avanzata, rendendo l'audio più accessibile e conveniente per tutti. Ci sono altre invenzioni significative che hanno fatto seguito al fonografo? Sì, il fonografo ha posto le basi per lo sviluppo di altri dispositivi audio come il grammofono e infine il giradischi moderno. Ah, quindi il fonografo ha aperto la strada all'evoluzione dei lettori musicali. Precisamente. È stato un trampolino di lancio verso i dispositivi che utilizziamo oggi per ascoltare musica e registrazioni audio. Trovo affascinante la storia della tecnologia audio. È incredibile vedere come tutto è iniziato con il fonografo. È una testimonianza dell'innovazione umana e del nostro desiderio di catturare e sperimentare il suono in modi nuovi ed entusiasmanti. Assolutamente. Sono grato agli inventori come Edison che hanno superato i limiti di ciò che era possibile. I loro contributi hanno plasmato il mondo in cui viviamo oggi. Dobbiamo molto al loro ingegno e alla loro perseveranza. Grazie per aver condiviso queste informazioni. È stato illuminante conoscere le origini della registrazione audio. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto condividere con voi questa parte affascinante della storia. Lo apprezzo. È sempre interessante approfondire le storie che si celano dietro invenzioni rivoluzionarie. Non potrei essere più d'accordo. Se hai altre domande o vuoi approfondire altri argomenti, non esitare a chiedere. Grazie lo terrò a mente. Sono entusiasta di continuare ad ampliare le mie conoscenze. Questo è lo spirito. L'apprendimento è un viaggio che dura tutta la vita. Goditi l'esplorazione e la scoperta. Lo farò. Grazie ancora per le tue intuizioni e il tuo incoraggiamento. Ciao Anna. Hai mai affrontato sfide in cui avere un piano di emergenza era fondamentale? Ciao John. Assolutamente. I piani di emergenza sono essenziali quando sorgono ostacoli imprevisti. Puoi darmi un esempio di una situazione in cui un piano di emergenza ha salvato la situazione? Certo. Supponiamo che tu stia organizzando un evento all'aperto e che una pioggia improvvisa minacci di rovinarlo. Avere una sede di riserva interna sarebbe un vero toccasana. Questo ha senso. È importante prendere in considerazione opzioni alternative per mitigare i rischi. Esattamente. La pianificazione di scenari imprevisti aiuta a ridurre al minimo l'impatto delle sfide sugli obiettivi. Ci sono altri casi in cui un piano di emergenza sarebbe utile? Supponiamo che tu stia lavorando a un progetto con una scadenza ravvicinata. Avere un membro del team di riserva nel caso in cui qualcuno si ammali garantisce la continuità. A. Avere una persona di supporto assicura che il progetto non si fermi a causa di circostanze impreviste. Precisamente. Si tratta di essere preparati agli imprevisti e di disporre di soluzioni per mantenere le cose in ordine. Quali misure possiamo adottare per sviluppare un piano di emergenza efficace? Innanzitutto, identifica i potenziali rischi e le sfide che potrebbero sorgere. Quindi, fai un brainstorming di approcci o soluzioni alternativi per ogni scenario. Quindi, si tratta di anticipare diverse possibilità e avere un piano B per ognuna? Sì, avere più opzioni di backup aumenta le possibilità di affrontare con successo sfide impreviste. È una buona strategia. Fornisce un senso di sicurezza e fiducia di fronte alle incertezze. Assolutamente. Ti aiuta a rimanere proattivo e adattabile di fronte a eventi imprevisti. C'è qualcos'altro che dovremmo considerare quando creiamo un piano di emergenza? La comunicazione è fondamentale. Assicurati che tutti i soggetti coinvolti nel progetto o nell'evento siano a conoscenza dei piani di backup e del loro ruolo nella loro esecuzione. Una comunicazione chiara assicura che tutti siano sulla stessa pagina e possano agire rapidamente se necessario. Precisamente. Riduce al minimo la confusione e consente una risposta coordinata alle sfide. Grazie per aver condiviso queste informazioni. Avere un piano di emergenza sembra cruciale in vari aspetti della vita. Siete i benvenuti. In effetti, è uno strumento prezioso per gestire i rischi e mantenere i progressi verso i nostri obiettivi. Mi assicurerò di incorporare la pianificazione di emergenza nei miei sforzi futuri. È una lezione preziosa. È bello sentirlo. È sempre meglio essere preparati che colti alla sprovvista. Assolutamente. Grazie ancora per la guida e la competenza. È un piacere per me. Se hai altre domande o hai bisogno di ulteriore assistenza, non esitare a chiedere. Lo apprezzo. Ti contatterò sicuramente se avrò bisogno di ulteriori chiarimenti. Ti auguro una splendida giornata. Lezione 9. Esplorazione delle alternative. Ciao Anna. Se non riesco ad arrivare alla riunione, posso fare qualcos'altro? Mi scuso per l'inconveniente. Ciao John. Nessun problema. Se non puoi partecipare, forse potresti inviare un'e-mail dettagliata che riassuma i tuoi pensieri o idee. Questo è un ottimo suggerimento. Posso comunque contribuire anche se non posso essere lì di persona. Assolutamente. Il tuo contributo è prezioso e trovare modi alternativi per partecipare è importante. Grazie per la comprensione. È bello sapere che ci sono opzioni quando si presentano circostanze impreviste. Sicuramente. È sempre utile disporre di piani di backup o approcci alternativi in varie situazioni. Ci sono altri casi in cui l'esplorazione di alternative potrebbe essere utile? Supponiamo che tu stia programmando una vacanza e la tua destinazione preferita sia al completo. La ricerca di altre destinazioni simili potrebbe essere un'ottima alternativa. A. Quindi essere aperti alle alternative ci consente di adattarci e trovare opzioni adeguate. Esattamente. Amplia le nostre possibilità e ci aiuta a trovare soluzioni quando la nostra prima scelta non è disponibile. Capisco come l'esplorazione di alternative possa portare a nuove opportunità ed esperienze. In effetti. Essere flessibili e di mentalità aperta può portare a scoperte inaspettate e risultati positivi. Quali misure possiamo adottare per esplorare efficacemente le alternative? Inizia identificando il tuo obiettivo o obiettivo principale. Quindi fai un brainstorming su diversi percorsi o opzioni che possono aiutarti a raggiungerlo. Quindi, si tratta di prendere in considerazione approcci diversi che possono portare allo stesso risultato desiderato? Sì, si tratta di essere creativi e intraprendenti nel trovare modi diversi per raggiungere il proprio obiettivo. È un'abilità preziosa da possedere. Ci permette di adattarci e superare le sfide. Assolutamente. Ci aiuta a superare le incertezze e a trovare soluzioni che funzionino per noi. Grazie per aver condiviso queste informazioni. Esplorare le alternative è una mentalità essenziale da avere. Siete i benvenuti. Abbracciare la flessibilità e prendere in considerazione diverse opzioni può migliorare notevolmente le nostre capacità di risoluzione dei problemi. Lo terrò a mente e cercherò di essere più aperto alle alternative in futuro. È una lezione preziosa. È bello sentirlo. Apre nuove possibilità e aumenta le possibilità di successo. Apprezzo la tua guida e competenza. È stato un piacere discutere di questo argomento con te. Il piacere è mio. Se hai altre domande o hai bisogno di ulteriore assistenza, non esitare a contattarci. Grazie lo terrò sicuramente a mente. Ti auguro una splendida giornata. Ciao Anna. Sono rimasta sorpresa dall'importanza di mantenere la calma e seguire le istruzioni. Ciao John. In effetti, mantenere la calma e seguire le istruzioni può essere fondamentale in varie situazioni. Puoi farmi un esempio in cui mantenere la calma e seguire le istruzioni ha fatto la differenza? Certo. Supponiamo che tu sia in una situazione di crisi. Mantenere la calma consente di pensare con chiarezza e di seguire i protocolli di emergenza in modo efficace. Ah, quindi mantenere la calma e seguire le istruzioni può aiutare a garantire la nostra sicurezza e quella degli altri. Assolutamente. Aiuta a mantenere l'ordine e facilita una risposta coordinata a situazioni difficili. Ci sono altri casi in cui è importante mantenere la calma e seguire le istruzioni? Consideriamo un ambiente scolastico. Quando un insegnante dà istruzioni, seguirle attentamente garantisce un'esperienza di apprendimento fluida per tutti. Capisco. Seguendo le istruzioni, possiamo evitare confusione e sfruttare al massimo l'opportunità di apprendimento. Precisamente. Aiuta a creare un ambiente strutturato in cui tutti possano trarre beneficio dalla lezione. Quali misure possiamo adottare per mantenere la calma e seguire efficacemente le istruzioni? Per prima cosa, fai un respiro profondo e concentrati sul momento presente. Quindi, ascolta attentamente le istruzioni e chiedi chiarimenti se necessario. Quindi, si tratta di essere consapevoli e impegnarsi attivamente con le istruzioni fornite. Sì. Prestare attenzione e rimanere presenti nel momento può aiutarti a comprendere e seguire le istruzioni in modo accurato. È un'abilità preziosa. Ci consente di essere più efficienti ed efficaci in varie attività. Assolutamente. Promuove un ambiente di apprendimento e di lavoro positivo. Grazie per aver condiviso queste informazioni. Mantenere la calma e seguire le istruzioni è essenziale per il successo. Siete i benvenuti. È un'abilità che può aiutarci in molti settori della vita. Mi assicurerò di esercitarmi a mantenere la calma e a seguire le istruzioni nelle mie attività quotidiane. È una lezione preziosa. È bello sentirlo. Migliorerà le tue prestazioni e contribuirà alla tua crescita personale e professionale. Apprezzo la tua guida e competenza. È stato un piacere discutere di questo argomento con te. Il piacere è mio. Se hai altre domande o hai bisogno di ulteriore assistenza, non esitare a chiedere. Grazie e ti contatterò sicuramente se avrò bisogno di ulteriori chiarimenti. Ti auguro una splendida giornata. Lezione 11. Accettare i rischi e cogliere le opportunità. Ciao Anna. Con le gioie più profonde della vita prima di te, hai rischiato tutto qui. Cosa ti ha spinto a fare un passo così audace? Ciao John. A volte, le maggiori opportunità derivano dall'assunzione di rischi calcolati e dall'uscire dalle nostre zone di comfort. Puoi farmi un esempio di una situazione in cui l'assunzione di rischi ha portato a grandi ricompense? Certo. Supponiamo che tu abbia un'idea imprenditoriale innovativa. Correndersi il rischio di avviare un'impresa in proprio potrebbe portare a un enorme successo e realizzazione. Ah, quindi accettando i rischi, ci apriamo a nuove possibilità e potenziali ricompense. Assolutamente. Richiede coraggio e disponibilità ad affrontare l'incertezza, ma le ricompense possono essere straordinarie. Ci sono altri settori della vita in cui accettare i rischi può essere utile? Prendiamo in considerazione la crescita personale. Provare nuove esperienze o perseguire obiettivi impegnativi può portare alla scoperta di sé e allo sviluppo personale. Capisco. Accettando i rischi, ci permettiamo di crescere ed espanderci oltre i nostri limiti attuali. Precisamente. Si tratta di superare i limiti e sbloccare tutto il nostro potenziale. Quali misure possiamo adottare per affrontare efficacemente i rischi e cogliere le opportunità? Inizia valutando i potenziali rischi e benefiche. Quindi, raccogli informazioni, elabora un piano e agisci con sicurezza. Quindi, si tratta di essere preparati e prendere decisioni informate prima di fare il salto. Sì, l'assunzione di rischi calcolati aumenta le nostre possibilità di successo e riduce al minimo i potenziali esiti negativi. Questa è una mentalità preziosa. Ci incoraggia a essere proattivi e a cogliere le opportunità quando si presentano. Assolutamente. Ci permette di sfruttare al massimo le opportunità che ci si presentano. Grazie per aver condiviso queste informazioni. Accettare i rischi e cogliere le opportunità è un concetto potente. Siete i benvenuti. Può condurre a una vita piena di entusiasmo, crescita e appagamento. Lo terrò a mente e sarò aperto ad accettare i rischi nel perseguimento dei miei obiettivi. È una lezione preziosa. È bello sentirlo. Accettare i rischi può portare a esperienze e risultati straordinari. Apprezzo la tua guida e competenza. È stato un piacere discutere di questo argomento con te. Il piacere è mio. Se hai altre domande o hai bisogno di ulteriore assistenza, non esitare a contattarci. Grazie. Ti contatterò sicuramente se avrò bisogno di ulteriori chiarimenti. Ti auguro una splendida giornata. Salve Anna. Cedendo parte della sovranità in una fase molto precedente se fossimo stati coinvolti fin dall'inizio, avremmo ottenuto risultati migliori. Quali sono i tuoi pensieri al riguardo? Salve John. In effetti, trovare il giusto equilibrio tra sovranità e collaborazione può portare a risultati più favorevoli in varie situazioni. Puoi fornire un esempio in cui la collaborazione precoce e la sovranità condivisa sarebbero state utili? Certo. Supponiamo di lavorare su un progetto di squadra. Collaborando sin dall'inizio e condividendo il potere decisionale, possiamo sfruttare diverse prospettive e ottenere risultati di qualità superiore. A. Quindi abbracciando la collaborazione e rinunciando a un po' di controllo, possiamo attingere alla saggezza collettiva e migliorare i nostri risultati. Assolutamente. Favorisce il senso di unità. Promuove la creatività e aumenta le probabilità di successo. Ci sono altri contesti in cui è importante bilanciare sovranità e collaborazione? Prendiamo in considerazione le relazioni internazionali. Impegnarsi nella diplomazia e formare alleanze spesso richiede ai paesi di scendere a compromessi e condividere la sovranità per il bene comune. Capisco. Lavorando insieme e condividendo la sovranità, le nazioni possono affrontare le sfide globali in modo più efficace. Precisamente. Si tratta di riconoscere l'interconnessione del nostro mondo e i vantaggi dell'azione collettiva. Quali misure possiamo intraprendere per trovare un equilibrio tra sovranità e collaborazione? Inizia con una comunicazione aperta e la disponibilità ad ascoltare diverse prospettive. Quindi, trovare un terreno comune e ideare accordi reciprocamente vantaggiosi. Si tratta di promuovere il dialogo, creare fiducia e cercare soluzioni vantaggiose per tutti. Sì, richiede una mentalità collaborativa e un'attenzione ai benefici a lungo termine rispetto ai guadagni a breve termine. Questo è un principio importante. Incoraggia la cooperazione e consente progressi su scala più ampia. Assolutamente. Apre la strada all'innovazione, alla prosperità condivisa e allo sviluppo sostenibile. Grazie per aver condiviso queste informazioni. L'equilibrio tra sovranità e collaborazione è essenziale per il successo collettivo. Siete i benvenuti. È un concetto che può portare a risultati positivi a vari livelli. Lo terrò a mente e cercherò di trovare il giusto equilibrio tra sovranità e collaborazione nei miei sforzi. È una lezione preziosa. È bello sentirlo. Contribuirà alla tua crescita ed efficacia in diversi ambiti della vita. Apprezzo la tua guida e competenza. È stato un piacere discutere di questo argomento con te. Lezione 13. Costruire una routine mattutina produttiva. Ciao Anna. Iniziare in piccolo e aggiungere gradualmente attività è un ottimo modo per stabilire una routine mattutina produttiva. Quali sono i tuoi pensieri al riguardo? Ciao John. Sono completamente d'accordo. Una routine mattutina ben strutturata dà il tono per il resto della giornata. Quali attività consiglieresti di iniziare per dare il via a una routine mattutina produttiva? Suggerisco di iniziare con attività semplici come allungare, idratarsi e stabilire le intenzioni per la giornata. Ah, quindi incorporando queste attività, possiamo migliorare il nostro benessere fisico e mentale fin dall'inizio. Assolutamente. Ci aiuta a sentirci riposati, concentrati e pronti ad affrontare le sfide della giornata. Ci sono altre attività che possiamo aggiungere gradualmente alla nostra routine mattutina per la massima efficacia? Sì. Man mano che ci sentiamo a nostro agio con le attività iniziali, possiamo aggiungere cose come la meditazione, l'esercizio o la lettura. Capisco. Espandendo gradualmente la nostra routine, possiamo coltivare abitudini che promuovono la crescita personale e la produttività. Precisamente. Si tratta di trovare un equilibrio tra le attività che ci danno energia e quelle che contribuiscono ai nostri obiettivi. Quali benefici possiamo aspettarci da una routine mattutina ben strutturata? Una routine mattutina produttiva può aumentare la nostra produttività complessiva, migliorare la chiarezza mentale e ridurre i livelli di stress. Sembra fantastico. È incredibile come alcune semplici attività possano avere un impatto così positivo. Assolutamente. Piccoli cambiamenti nella nostra routine mattutina possono portare a cambiamenti significativi nel nostro benessere generale. Quali consigli hai per mantenere la coerenza nella nostra routine mattutina? È essenziale stabilire le priorità e impegnarsi nella routine. Stabilire un orario specifico e creare un ambiente favorevole può aiutare. Quindi, si tratta di creare un'abitudine ed essere intenzionali nel rispettarla. Sì, la costanza è la chiave per sfruttare i benefici di una routine mattutina produttiva. Grazie per aver condiviso queste informazioni. Costruire una routine mattutina produttiva è una pratica preziosa. Siete i benvenuti. È un modo semplice ma potente per iniziare le nostre giornate con il piede giusto. Incorporerò sicuramente questi suggerimenti nella mia routine mattutina. È una lezione che vale la pena implementare. È bello sentirlo. Sono sicuro che avrà un impatto positivo sulla tua vita quotidiana. Apprezzo la tua guida e competenza. È stato un piacere discutere di questo argomento con te. Lezione 14. Comprendere i mandati di perquisizione e la privacy personale. Salve Anna. I mandati di perquisizione sono fondamentali per proteggere le persone dalle invasioni arbitrarie delle loro proprietà da parte della polizia. Quali sono i tuoi pensieri al riguardo? Ciao John. Sono completamente d'accordo. I mandati di perquisizione assicurano che le forze dell'ordine rispettino i diritti alla privacy personale. Puoi spiegare cos'è un mandato di perquisizione e come funziona? Un mandato di perquisizione è un documento legale emesso da un giudice che autorizza la polizia a cercare prove di un crimine in un luogo specifico. A. Quindi è una protezione per prevenire perquisizioni ingiustificate e proteggere le persone da intrusioni irragionevoli. Esattamente. Garantisce che le ricerche siano basate su una causa probabile e approvate da un'autorità indipendente. Quali criteri devono essere soddisfatti per l'emissione di un mandato di perquisizione? In genere, la polizia deve dimostrare a un giudice che esiste un probabile motivo di ritenere che sia stato commesso un reato e che le prove del crimine possono essere trovate nel luogo specificato. Capisco. Quindi, deve esserci una base ragionevole per la ricerca, supportata da prove o informazioni affidabili. Sì. Il quarto emendamento della Costituzione degli Stati Uniti protegge da perquisizioni irragionevoli e richiede un mandato basato su una causa probabile. Esistono eccezioni al requisito del mandato di perquisizione? Sì. Ci sono alcune eccezioni. Ad esempio, quando c'è una minaccia immediata per la sicurezza pubblica o quando le prove sono in bella vista. Questo ha senso. In determinate situazioni urgenti, le forze dell'ordine devono agire prontamente per garantire la sicurezza pubblica. Precisamente. Tuttavia, queste eccezioni sono definite con cura per prevenire l'abuso di potere. Cosa succede se la polizia effettua una perquisizione senza un mandato valido? Se una perquisizione viene condotta senza un mandato valido o non rientra nelle eccezioni, le prove ottenute possono essere considerate inammissibili in tribunale. Ah, quindi è importante che la polizia segua le procedure adeguate per proteggere l'integrità del processo legale. Assolutamente. Il rispetto dei principi del giusto processo e la protezione dei diritti individuali sono fondamentali. Grazie per aver condiviso queste informazioni. Comprendere i mandati di perquisizione e la privacy personale è essenziale per una società giusta. Siete i benvenuti. È importante che tutti siano consapevoli dei propri diritti e delle garanzie in atto. Terrò sicuramente a mente questi principi e sosterrò la protezione della privacy personale. È bello sentirlo. La conoscenza e la consapevolezza sono strumenti potenti per salvaguardare i nostri diritti. Apprezzo la tua guida e competenza. È stato un piacere discutere di questo argomento con te. Lezione 15. Prenotare una camera adatta. Salve Anna. Sai come prenotare una camera adatta? Posso esserti utile per qualcosa? Ciao John. Sì. Ho bisogno di una stanza adatta per una riunione di lavoro. Puoi aiutarmi in questo? Assolutamente. Quali sono le tue preferenze per la camera? Eventuali requisiti specifici? Preferirei una sala spaziosa con tavolo da conferenza e attrezzature audiovisive. Ottimo. Quante persone parteciperanno alla riunione? Prevediamo circa 12 partecipanti. Quindi la sala dovrebbe ospitare comodamente quel numero. Notato. E per che data e ora vuoi prenotare la camera? Abbiamo bisogno della camera per lunedì prossimo dalle 9 alle 13. Ho capito. Vorrei verificare la nostra disponibilità per quel giorno e quell'ora. Grazie. Apprezzo la tua assistenza. Buone notizie. Abbiamo una sala adatta per la tua riunione in quel giorno. È fantastico. Puoi fornirmi i dettagli e il costo, per favore? Certamente. La camera si trova al quinto piano e il costo per la prenotazione di 4 ore è di 150 dollari. Funziona bene per noi. Per favore, vai avanti e prenota la camera per noi. Lo farà. Confermerò la prenotazione e ti invierò i dettagli via e-mail. Perfetto, grazie ancora per l'aiuto. Non vedo l'ora di ricevere la conferma. Siete i benvenuti. È stato un piacere assisterti. Riceverai la conferma a breve. Lezione 1. Esplorazione di sentieri escursionistici impegnativi. Ciao Anna. Hai mai percorso il ripido sentiero nella catena montuosa vicina? Ciao John. No, non l'ho fatto. Wow, sembra intenso. Come l'hai trovato? È stato piuttosto impegnativo, ma i panorami mozzafiato lungo il percorso ne sono valsi la pena. Sembra incredibile. Ho sempre voluto provare un'escursione impegnativa come quella. È sicuramente un ottimo modo per superare i tuoi limiti e entrare in contatto con la natura. Sei pronto per l'avventura? Assolutamente. Sono sempre pronto a provare cose nuove e ad abbracciare attività all'aperto. Questo è lo spirito. Assicurati solo di essere ben preparato con attrezzatura da trekking adeguata e acqua a sufficienza. Certo. La sicurezza prima di tutto. Mi assicurerò di mettere in valigia tutto l'essenziale e di rimanere idratato durante l'escursione. È anche essenziale mantenere il ritmo e fare delle pause quando necessario. Ascolta il tuo corpo e goditi il viaggio. Lo terrò a mente. Non si tratta solo di raggiungere la destinazione, ma anche di godersi il processo. Esattamente. L'escursionismo non è solo impegnativo fisicamente, ma anche rinvigorente e mentalmente rinvigorente. Posso immaginare quanto sia appagante conquistare un sentiero difficile ed essere circondati dalla bellezza della natura. È davvero un'esperienza incredibile. Proverai un senso di realizzazione e una profonda connessione con la vita all'aria aperta. Non vedo l'ora di imbarcarmi in questa avventura. Grazie per avermi ispirato a esplorare sentieri escursionistici impegnativi. Siete i benvenuti. La natura ha così tanto da offrire ed è meraviglioso condividere queste esperienze con gli altri. Non potrei essere più d'accordo. Abbracciamo la bellezza della natura e mettiamoci alla prova lungo la strada. Assolutamente. Un saluto a tante escursioni memorabili e alla gioia di scoprire nuovi orizzonti. Lezione 17. Imballaggio efficiente. Ehi Anna, fare le valigie in modo efficiente è fondamentale quando si viaggia. Hai qualche consiglio? Ciao John. Sì, sicuramente. Avere una lista di imballaggio aiuta a rimanere organizzati. Questa è un'ottima idea. Quali articoli devono essere sulla lista di imballaggio? Inizia con elementi essenziali come vestiti, articoli da toeletta e documenti di viaggio. Devo mettere in valigia indumenti specifici per le diverse condizioni atmosferiche? Sì. Considera il clima della tua destinazione e prepara le valigie di conseguenza. Qualche suggerimento per massimizzare lo spazio in valigia? Arrotola i vestiti invece di piegarli per risparmiare spazio. Buon consiglio. Che mi dici di articoli da toeletta e liquidi? Usa contenitori da viaggio e mettili in una busta trasparente con cerniera per facilitare i controlli di sicurezza. Dimentico sempre qualcosa. Come posso evitarlo? Crea una lista di controllo e contrassegna gli articoli mentre li imballi. È un modo intelligente per rimanere organizzati. Qualche altro consiglio sull'imballaggio? Prepara articoli versatili che possono essere mescolati e abbinati per creare abiti diversi. Questo ha senso. Lo terrò a mente. Grazie. Lezione 18. Caccia all'appartamento. Ciao Anna. Trovare un appartamento con balcone sarebbe un bel vantaggio, non credi? Ciao John. Sono d'accordo. Sarebbe bello avere un po' di spazio all'aperto. E che ne dici di avere una palestra nell'edificio? Questo ci farebbe risparmiare un abbonamento separato. Assolutamente. Una palestra sarebbe comoda e ci aiuterebbe a rimanere attivi. Quali altri servizi pensi siano importanti in un appartamento? Un parcheggio, una lavanderia e un ingresso sicuro sarebbero sulla mia lista. Buoni punti. Anche la posizione è fondamentale. Qualche preferenza per il quartiere? Preferirei un quartiere con facile accesso ai trasporti pubblici e ai servizi. Questo ha senso. Dovremmo anche considerare le dimensioni e la disposizione dell'appartamento. Sicuramente. Avremo bisogno di spazio sufficiente per i nostri mobili e di un layout funzionale. Che ne dici del budget? Che gamma è comoda per noi? Puntiamo a un budget che ci consenta di coprire comodamente l'affitto e altre spese. Concordato. Dovremmo anche tenere conto di eventuali costi aggiuntivi come le utenze e la manutenzione. Assolutamente. È importante avere una chiara comprensione di tutte le spese coinvolte. Vero. Cominciamo a cercare un appartamento e teniamo a mente queste considerazioni. Sembra un piano. Troviamo il nostro appartamento perfetto. Buona fortuna. Grazie. Apprezzo il tuo supporto. Restiamo positivi e troviamo il posto dei nostri sogni. Lezione 19. Servizio alberghiero. Ehi Anna, ho bisogno di asciugamani e articoli da toiletta extra nella mia stanza. Puoi aiutarmi? Ciao John. Ho notato. Farò in modo che anche quelli vengano portati nella tua camera. Grazie. Apprezzo la tua assistenza. Siete i benvenuti. È un piacere assisterti. A proposito, offrite il servizio in camera in questo hotel? Sì. Lo facciamo. Puoi ordinare dal menu in camera e farti consegnare. Questo è conveniente. Potrei ordinare la cena più tardi stasera. Ottima scelta. Il nostro menu del servizio in camera offre una varietà di deliziose opzioni. Ci sono ristoranti o caffè nelle vicinanze che consiglieresti? Sì. Ci sono diverse buone opzioni raggiungibili a piedi. Posso fornire consigli. Sarebbe utile. Vorrei esplorare la cucina locale. Sarò lieto di fornirti un elenco di posti consigliati per cenare. Grazie. La tua assistenza è preziosa.